...generando in termini di interesse per la partecipazione della Repubblica di San Marino al grande evento che ci sarà a Milano quest'anno ed è chiaramente, qualunque parola noi utilizzassimo sicuramente potrebbe risultare banale in funzione di quello che è l'investimento che non soltanto l'Italia ma tutti i paesi del mondo che partecipano stanno svolgendo per essere presenti al meglio a quel appuntamento. Così sta facendo anche la Repubblica di San Marino e quindi questo è diciamo un po' il primo momento, il primo grande momento di presentazione agli occhi del mondo se vogliamo perché non dobbiamo chiaramente avere confini che faremo nelle giornate del 28 e del 29 di marzo a Milano e dove inizieremo di fatto, entreremo di fatto nel vivo del progetto che ci vedrà impegnati chiaramente per i prossimi settembre.